Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo commento di questo, come avete visto nel titolo, nel titolo di Lucas Veltram che viene dal River Plate dei Nunes, da Love Missionarios, da una delle squadre più titolate in Sud America, una tra le più grandi in Argentina e forse anche nel mondo. Il River Plate ragazzi, il River Plate che sta sfornando talenti anno dopo anno e io che sono comunque un simpatizzante del Boca Junior, ve lo devo dire, bisogna ammettere quando una squadra sta facendo bene il suo lavoro. Ho messo lì dietro la maglietta della Fiorentina perché ragazzi, perché oggi parliamo di Lucas Veltram e della Fiorentina, di questo calciatore che sta per arrivare a Firenze per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ma prima di lasciarvi al commento e ad alcuni numeri e quello che penso su questo calciatore e farvelo conoscere un pochino, come ho fatto anche con Gino Infantino, che potete trovarlo nel mio canale YouTube, vi invito a lasciarmi un commento, un like, condividere con gli amici, attivare la campanellina, che è fondamentale ragazzi, così vedete la visualizzazione che a me è importantissima per far crescere questa community amante del football e che sa, vede football, che sa di calcio e ripeto sempre, chi sa di calcio non è che, perché ha un'opinione uguale alla mia e se ha un'opinione diversa dalla mia non è che non sa di calcio, ma semplicemente che rispetta il football e che davanti a una pizza, a un caffè, a quello che volete un matto, riusciamo a parlare tranquillamente di football, di calcio come deve essere civilmente. Ok ragazzi, partiamo con Lucas Veltran, un ragazzo del 2001, 22 anni, ha una media gol incredibile in Sud America, se venisse in Europa veramente sarebbe uno tra i più forti, diciamo comunque più interessanti in Europa, quindi se è già interessante in Sud America, immaginiamoci se arriva e fa stessi numeri anche qua. È un giocatore che, diciamo, sa fare la prima punta, ma sa molto giocare anche in profondità, un po' la Julian Alvarez, ragazzi, diciamo che sa ricoprire tutto il reparto offensivo, ok? Andiamo a vedere un po' di statistiche, quello che è stato quest'anno. Lui è campione d'Argentina, ok? Del campionato argentino, della Superliga, giocando 25 partite, segnando 12 gol, facendo 3 assist, è una media gol di 1374 minuti giocati, è un gol ogni 115 minuti giocati, quindi una partita è qualcosa, quindi ogni partita è qualcosa, in solito dura 90 minuti, segna un gol ogni 115 minuti, ragazzi. In complessivo tra Coppa Libertadori, Superliga e Coppa Argentina, che sarebbe la Coppa Italia, ha giocato 2095 minuti, segnando ogni 131 minuti un gol, 34 partite, 16 gol e 4 assist, ok? Numeri che comunque, ragazzi, Lucas Beltran parte dall'Istituto di Cordova, lui è di Cordova, ragazzi, nasce a Cordova il 29 marzo del 2001, 2001 qua mi dicono, 2002 mi dicono, perché Transmarket mi dice una cosa, lui è interiore a Transmarket, no, 2001, 2001, a 22 anni, scusate se ho detto 2002, forse 2001, parte dall'Istituto di Cordova, delle giovanili, poi va, lo prende il River Plate, come succede un po' spesso, che il River Plate va nell'interno, quindi all'interno, che significa verso l'interno dell'Argentina, va a cercare i giovani talenti, nello pueblo, nelle cittadine, e se lo porta il River Plate, alla pensione del River Plate. Nel 2018-2021 sta al River, dal 2018-2021 in prima squadra, poi viene mandato dal 2021 al 2022 in prestito al Colom, dove gioca 31 partite, fa 6 gol, addirittura anche uno al Boca Signor, se non sbaglio, se lo riprende il River, se lo riprende il River, è nell'era dei Micelis, perché prima c'era Gaciardo, ragazzi, che ha fatto tantissimo, che ha vinto tanto con il River Plate, nell'epoca Gaciardo, viene al River, fa 43 partite e 14 gol, se non sbaglio, era qua mi dice questo, cosa mi dice 34, vabbè, magari terrà conto, ah ok, perché arriva anche dal 2021 al 2022, nel 2022-2023, vabbè, questi numeri più o meno, ragazzi. Cos'altro possiamo dire? È sicuramente un grande prospettivo, un grande talento, in teoria intorno ai 20 milioni di euro, quello che dice Gianluca Di Marzio, quello che dice calciomercato.com, una cifra un po' elevata per un giocatore che comunque, vabbè, ha 22 anni, sicuramente se fosse stato qua già valdrebbe almeno 90 milioni di euro, perché sapete come girano i prezzi qui in Europa. Per me, allora, è una cifra che è un po' rischiosa, perché sono 20 milioni di euro per un giocatore che arriva dal Sud America, però io quando si tratta di giocatori dal River Plate metto le mani sul fuoco, cioè metterei le mani sul fuoco, perché il River Plate è una scuola calcio che sta preparando da anni i giocatori per il salto in Europa, ok? È una specie di, come si dice, di accademia che è quella più vicina dal mio punto di vista per il salto in Europa. Infatti, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Montiel, Martínez Quarta, Beltran, ok? Stanno uscendo tantissimi giocatori da lì, dal River Plate, stanno facendo i giocatori in Europa e gli sta facendo fare tanti tanti soldi al River Plate. 20 milioni di euro per un giocatore quindi che sa fare il reparti, ok? Diverso reparti dell'attacco, in profondità sa giocare di altezza, addirittura Enzo Fernandez in un tweet o comunque in un commento su Instagram, l'ha chiamato Vamo Toro, quindi a quanto pare anche per chiamare Toro solitamente in Argentina è qualcuno che è forte fisicamente, 176 cm per 69 kg, magari neanche troppo, però anche Lautaro bassino, però Lautaro ragazzi è un Toro e quando gioca lo dicono, cioè non lo sposti neanche con una gru per dire. Quindi penso che arriva un giocatore che dal mio punto di vista con il gioco di italiano può fare molto bene. La Fiorentina non si vuole far scappare un altro giocatore, un altro talento come fu Julian Alvarez che per poco così non si prendeva veramente dal mio punto di vista un talento assurdo che per me con l'italiano avrebbe potuto anche fare il capo canoniere per come gioca la Fiorentina ragazzi perché veramente Julian Alvarez lo sapete l'ha vinto, chissà di calcio sa che è un grande talento. Non vuole farselo scappare quindi cosa fa? Anticipa tutte le altre perché c'era anche il Milan, c'erano anche altre squadre, questa volta la Fiorentina vuole far sul serio, quindi va là, paga la clausola o pagherà comunque i soldi che chiede il River e se lo porterà molto probabilmente a Firenze ragazzi. Io ho molta prospettiva in lui, ci credo che possa far bene, gli spero con tutto il cuore un attaccante tevinico e altruista, abile nelle gare il gioco e nel dribbling per via del suo stile di gioco è stato spesso accostato alla casette o a Jonathan David o al connazionale Liguaini con il quale condivide anche un percorso simile nelle giovanili, sì perché giustamente anche lui ha fatto le giovanili nel River Plate. Quindi ragazzi siamo davanti a un giocatore che potrà sicuramente dir la sua, avrà concorrenza perché adesso non so chi è avanti attaccanti alla Fiorentina attacco ma aveva Jovic, Cavral, Quame se non sbaglio ne ha alcuni e avrà ancora concorrenza. Ditemi la vostra nei commenti cosa ne pensate, qualche altro calciatore. Viva il football, sempre crappi! Viva il football, sempre crappi! Sì, quindi sicuramente la Fiorentina sta facendo un bel gruppo anche di sudamericani. Ditevi nei commenti cosa ne pensate, qualche altro calciatore. Viva il football, sempre crappi! Vi invito sempre a lasciare un commento, un like, condividere con gli amici, attivare la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao crappi!